Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo ancora una volta parlando dei danni causati dal maltempo. Nel territorio aretino è stato ancora una volta il forte vento, ingenti danni, soprattutto alberi, anche di grosse dimensioni, sradicati. E allora sentiamo il servizio. Mentre nelle zone alluvionate si continua a spalare fango, grazie anche alle tante associazioni in campo e ai tanti cittadini volontari che sono corsi a dare una mano, nell'aretino nelle ultime 24 ore si è dovuto fare i conti invece con i danni provocati dal vento, che anche nella notte tra il 4 e il 5 novembre ha sferzato il territorio provinciale. I vigili del fuoco di Arezzo hanno effettuato, solo nelle ultime 24 ore, 110 interventi, che si sommano ai 130 effettuati per i danni dei giorni precedenti. Per la maggior parte alberi abbattuti dal vento, come nel caso di Civitella in Valdichiana e Monte San Zavino. Qui invece siamo ad Arezzo, al Parco Giotto, e ancora un intervento nella zona del mercato ortofrutticolo. Qui invece siamo a quota, nel comune di Poppi. L'intervento più importante è stato in Casentino, dove i vigili del fuoco sono intervenuti con la squadra di Bibbiena e con gli operatori fluviali che si sono calati dal ponte per liberare il letto dai tronchi che ostruivano il passaggio dell'acqua. Un intervento che è stato possibile con l'ausilio dell'autogru che ha spostato gli alberi più grandi e del personale del consorzio Bonifica. Un incendio a ponte alla Chiassa oggi. Il fuoco è scoppiato nella parte di un magazzino di una rivendita di materiali per l'edilizia. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 11 del mattino provocando una densa nube di fumo nero che ha investito alcune abitazioni vicine all'azienda. Da sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e la polizia non si segnalano feriti ma una persona che avrebbe appunto respirato il fumo è stata trasportata in pronto soccorso per accertamenti. Le sue condizioni comunque non destano preoccupazione. Cade nel bosco e finisce in un dirupolo. Una retina è stata a soccorsa sul sentiero Scalandrini. La donna, una sessantenne residente a Subbiano, stava partecipando ieri ad un'escursione quando è caduta appunto precipitando in una zona impervia lungo questo sentiero in direzione Monte Lama. Sul posto gli operatori del soccorso alpino della stazione di Monte Falco e tra loro anche un sanitario. Non senza difficoltà hanno raggiunto la donna, poi l'hanno messa in una barella e l'hanno trasportata per circa 250 metri fino ad arrivare a mezzo fuoristrada e poi portarla appunto in sanità per poi consegnarla ai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso. Adesso è stato forte sconcerto il caso di una retina. Alla base ci sarebbero dei problemi psichiatrici che ha ucciso il proprio cane in terrazza. Ha ucciso il suo cane sul terrazzo di casa con una balestra poi ha infierito sul corpo dell'animale con un coltello. Una scena d'indicibile crudeltà che si è consumata sotto gli occhi di un vicino che ha chiamato la polizia. Sto incertato, non è ammistibile che succedano queste cose. È successo ad Arezzo in una palazzina di Via Bologna. L'uomo, 32enne, retino con precedenti, ha colpito con cinque colpi di balestra il cane un rottweiler poi si è accanito sul corpo dell'animale con un coltello. Io prendersi quegli animali proprio penso sia una cosa, la peggior cosa. Sono indifesi poi questi danno un bene che non dà al limite una persona. All'arrivo degli agenti è apparso subito in stato confusionale. Ai poliziotti ha dichiarato di aver visto nel cane l'immagine del diavolo. Sono stati qui tutta la mattina, polizia. È stato accompagnato in psichiatria dell'ospedale San Donato di Arezzo. Dalla analisi non è risultato aver assunto alcol o droga. È stato ricoverato in attesa di ulteriori accertamenti medici. Per lui si profila la denuncia per il reato di uccisione con crudeltà di animali. Molto male. Non riesco a spiegarmi come abbiamo fatto a avere il coraggio di fare questa cosa. E proprio su questo caso c'è anche un intervento dell'assessore Giovanna Carlettini che guida appunto l'assessorato a tutela degli animali nel comune di Arezzo. Innanzitutto ha detto lancio un appello. Possedere un cane deve essere sempre accompagnato da un senso di responsabilità. È molto bello ma è anche un impegno. Mi preme poi ribadire al di là di questo caso specifico dove pare che concorrano valutazioni di natura medica sulla persona coinvolta che ogni atto di violenza nei confronti degli animali è un gesto vigliacco che suscita sdegno e che va fermamente condannato. Dal Lazio a Sansepolcro per compiere furti nei supermercati eludendo i controlli antitaccheggio. Un trentenne residente in provincia di Roma è stato arrestato dai carabinieri di Sansepolcro. Aveva con sé una potente calamita che appunto era in grado di rimuovere o rendere comunque inefficaci i sistemi sonori di allarme. Aveva preso di mira nel pomeriggio di sabato scorso diversi esercizi commerciali. È stato poi trovato in possesso infatti di oltre 80 bottiglie di alcolici e superalcolici. Attualmente sono in corso le indagini proprio per risalire a tutti i negozi derubati. Un altro furto però questa volta è accaduto in Valdarno. Il servizio. Siamo stati avvertiti dai nostri vicini di casa di questi movimenti sospetti. Insomma era stata sfondata la porta quella di servizio che usiamo come accesso a merci e nostro. E quindi siamo arrivati sul posto intorno a mezzanotte e mezzo ed abbiamo trovato che avevano forzato la porta. Furto nella notte all'interno dello spazio Politeama di Montevarchi, struttura che è tornata al servizio della collettività grazie ad una serie di eventi rivolti soprattutto ai più giovani. E' successo lo scorso sabato. Quella sera non era prevista alcuna iniziativa all'interno dei locali che si trovano nel cuore del centro storico. Hanno rubato parte di un fondo cassa, del materiale al bar e purtroppo un computer di uno di noi dove c'erano archiviati varie cose, progetti a cui stavamo lavorando. Quindi è stato un po' sulla dinamica della cosa in realtà abbiamo parlato, abbiamo fatto la denuncia a Carabinieri però insomma ancora si sta cercando di capire di cosa si tratta. Probabilmente sono stati dei ragazzi e quindi si sperano una bravata in qualche misura. Ci stiamo attivando soprattutto per provare a ritrovare il computer. Un furto dunque da diverse migliaia di euro, purtroppo non un caso isolato. Sono già successe cose di questo tipo, infatti si dovrebbe cercare di trovare un modo per allontanare queste cose sicuramente da oggi ci stiamo attivando per mettere allarmi, telecamere interne per cercare di chiudere questo capitolo. Brutti episodi che però non hanno scoraggiato i gestori, anzi. Noi siamo comunque convinti, anzi a maggior ragione, casi come questi, eventi come questi ci devono spronare a continuare a fare la nostra attività che quindi è importante in un centro storico di un paese avere posti che fanno eventi, che fanno culture che quindi dove c'è gli eventi, dove c'è la cultura è meno facile che prolifino attività di questo tipo e quindi stringiamo i denti e andiamo avanti. Parliamo adesso invece di caporalato perché è presente in sette comuni aretini secondo i dati dell'ultimo rapporto sulle agromafie, appunto il caporalato curato dall'osservatorio Placido Rizzotto e dalla Fly CGL che è giunto alla sua sesta edizione, braccianti al lavoro per 5 euro all'ora per 12 ore al giorno. Questo fenomeno non risparmia appunto nessuna vallata aretina. in Val D'Arno viene segnalato il comune di San Giovanni, in Valtiberina Sansepolcro e Badiate d'Alda, in Valdichiana Cortona e infine il Casentino con ben tre comuni che vengono appunto segnalati dove ci sarebbe la presenza di questo fenomeno ovvero Poppi, Prato Vecchio e Ortignano. E allora abbiamo parlato di maltempo ancora una volta in apertura del nostro telegiornale e i lavori sui torrenti, sui corsi d'acqua sono quanto mai necessari, ce lo ricordano insomma i fatti terribili di questi giorni. Erano infatti stati annunciati questa estate e si concluderanno nei prossimi giorni i lavori al Rio Cese che garantiranno appunto maggiore sicurezza idraulica a Terontola, siamo nel comune di Cortona. Gli interventi sono eseguiti grazie al consorzio di bonifica Alto Val D'Arno e sono partiti proprio dopo le indagini per la caratterizzazione proprio dei sedimenti in questo corso d'acqua. Acqua e vento, in realtà più vento, non hanno però scoraggiato gli avventori della fiera antiquaria di Arezzo. Qualche problema c'è stato insomma legato appunto al maltempo e anche qualche spazio vuoto. Il servizio. Tra i banchi della fiera antiquaria anche Leslie e Robert Zemex, come documentato dai due su Instagram dove hanno condiviso alcuni scatti con la didascalia Magnificent Day in Arezzo. Per la coppia lei documentarista, lui celebre regista hollywoodiano, autore tra gli altri della saga di Ritorno al Futuro, Forrest Gump e Cast Away, si tratta di un ritorno. Già nel 2019 avevano trascorso alcuni giorni in vacanza in Toscana e anche in questo caso immancabile la tappa tra le vie del centro storico Aretino. Quella di novembre però è stata un'edizione della fiera antiquaria che ha dovuto fare conti anche con le conseguenze del maltempo. Al risveglio in alcune zone del percorso gli antiquari hanno infatti trovato coperture di velte, strutture dei banchi piegati e cartelloni abbattuti. Una cinquantina invece gli espositori bloccati dall'alluvione che non hanno potuto prendere parte a questa edizione della fiera, evidenti gli spazi vuoti sia in via Guido Monaco che in Piazza Grande. È stata l'ultima edizione prima delle iniziative del Natale e se il Prato è già iniziato il montaggio del villaggio e delle 40 casine dedicate all'artigianato sono stati già assegnati anche i posti per gli antiquari che dovranno traslocare da Piazza Grande. Per l'edizione di dicembre sono già 11 quelli che hanno scelto via Sassoverde e Piazza San Domenico, le due locchie sono aggiuntive individuate dal Comune. Lo scultore castiglionese Andrea Ruggi e il gioielliere di Beverly Hills collaborano per svelare un'installazione artistica sull'energia della vita a Firenze, un'opera d'arte frutto proprio della collaborazione tra il rinomato scultore castiglionese e il designer di gioielli di fama internazionale. Rappresenta una testimonianza straordinaria della loro eccezionale maestria nel catturare l'essenza proprio della vita attraverso l'espressione sensoriale del bronzo unita alla preziosità dell'arte orafa. L'opera dopo Firenze raggiungerà Venezia per il Festival dell'Italia Gentile. Ed è partito davvero nel migliore dei modi il Foiano Book Festival. Segui i sogni da bambina e chiedi amore e sei sincera, non fai magie né trucchi ma nessuno ormai ti crederà. E' stato Neri Marco Rea ad aprire la quinta edizione del Foiano Book Festival, tre giorni di grandi numeri e la partecipazione di circa mille persone che hanno affollato la sala Furio del Furia, la sala Gervasi e la sala Carbonaia in tutti gli incontri in programma. L'attore marchigiano, artista poliedrico che negli anni ha attraversato teatro, tv, cinema e musica è stato protagonista di uno spettacolo speciale di musiche e parole progettato proprio per il Festival. C'è chi ti urla che sei bella, che sei una fata, sei una stella, poi ti fa schiava, però no, chiamarlo amore non si può. Il Foiano Book Festival ripartirà mercoledì 8 novembre con un unico grande appuntamento serale con Enri De Luca che dialogherà con Luisa Bosi e Stefano Ferri sui temi legati al Don Quixote e al mondo errante. Siamo contenti, è venuto un cartellone davvero importante, quest'anno tanti autori, scrittori, musicisti, attori hanno detto di sì a questo progetto e siamo molto felici, c'è molta felicità intorno a questo progetto, anche se Foiano è una piccola realtà, comunque siamo riusciti a creare un evento culturale che va fuori i nostri confini, sicuramente provinciali ma forse anche di più e quindi siamo molto soddisfatti. L'ottava edizione del Festival dello Spettatore ideato e promosso dalla rete teatrale Aretina. Il Festival è un appuntamento unico nel panorama nazionale la cui caratteristica principale è proprio quella di focalizzare la propria attenzione sul pubblico. Si comincia mercoledì 8 novembre al Cinema Eden alle 21 con Enzo Iannacci, Vengo anch'io di Giorgio Verdelli. Tutto il programma completo lo potete consultare sul sito festivaldellospettatore.it. Ci spostiamo adesso invece a Monte San Savino dove a breve prenderà il via la stagione del Teatro Verdi. Il Teatro Verdi di Monte San Savino apre il Sipario, un ricco cartellone svelato con l'affresco di un paese vestito a festa in un lungo pomeriggio di spettacolo itinerante attraverso le piazze del Borgo della Val di Chiana. Un'altra stagione che comincia, una stagione non semplice, un momento molto difficile per il mondo ma il teatro resta uno spazio importante di incontro e di discussione. Grandi nomi, grandi compagnie, grandi spettacoli che porteranno a rivivere, a far rivivere questo teatro e a far sì che le persone vengano a sognare un pochino dentro il nostro Teatro Verdi di Monte San Savino. Un po' la nostra casa e spero che possa durare per un po' di tempo. Tra i protagonisti, Ghemon, Dario Vergassola, Marco Marzocca e Ottavia Piccolo. Sono una giornalista, non un giudice e nemmeno un poliziotto. Io mi limito a raccontare i fatti, i fatti come sono, come stanno. Sembra la cosa più facile, invece qui è la più difficile e ha un prezzo enorme che non fai più un mestiere, ma combatti una guerra. Il testo che presenteremo lo faremo in lettura, si chiama Lo schifo e parla dell'uccisione di Ilaria Alpi e Milan Rovatin che è avvenuta 30 anni fa. Stefano Massini ha scritto questo testo e Massini ormai è il mio autore preferito. Io sono praticamente 20 anni che faccio solo Massini, finché lui scrive io recito. Il cartellone quest'anno non rinuncia ad uno spazio per i più piccoli e le famiglie e l'incontro con il teatro popolare. Avremo spettacoli di pomeriggio per le famiglie, proprio aperti alla famiglia, mentre quest'anno per la prima volta in collaborazione con l'Associazione Culturale Il Gioco abbiamo creato il gioco d'inverno e porteremo degli spettacoli di teatro popolare nel teatro San Prospero di Montagnano, che è Montagnano la sede naturale del gioco. C'è la signora Zoe e il suo marito Arturo, la signora Elisa e la signora o signorina Gertrude che è singolo Zitella, dipende da tutti in vista. Siamo alla pagina dello sport, iniziamo subito parlando dell'Arezzo, una vittoria sfumata a Pesaro davvero quasi all'ultimo minuto perché appunto il pareggio è arrivato al novantesimo. Sentiamo allora Mister Indiani a fine partita. È chiaro, prendi gol al novantesimo minuto, ecco, è una situazione che potevi evitare, c'è il rammario, però se la partita la guardi e la devi analizzare nel totale della gara, non il pareggio ci può stare. Insomma ci sono anche gli avversari, gli avversari, loro hanno fatto una buona gara il primo tempo con aggressività, con qualità e noi abbiamo rischiato, mi sembra, solo su situazioni regalate da noi, tipo passaggi dietro, eccetera. Ci sono anche gli avversari, il primo tempo non stai più bravi di noi, il primo tempo invece mi sembra che la situazione era cambiata e non mi stava liberando a vantaggio. Se abbiamo preso il pari evidentemente non ce la fai purtroppo, mi dispiace perché non mi sembrava che ci fossero impressioni a quel punto, cioè che loro potessero pareggiare con una gualla ferma, una letta lontana. Non siamo l'Arezzo dell'anno scorso, non siamo un Sere D, siamo un Sere C, non siamo l'Arezzo dell'anno scorso. Mettetelo sempre, le premesse, sempre, perché fai sempre domande come se noi fossero l'Arezzo dell'anno scorso un D che era la migliore. Non siamo la migliore, non siamo la migliore, non siamo la migliore, non siamo il Cesena, non siamo quella sua. Siamo una squadra come quasi tutte le altre e tutte le domenie se la gioca alla pari più o meno. E quando viene fuori queste partite, dobbiamo andare via un tempo, anche se ci hanno pareggiato ai 90 e passano. Quando si fa va bene come domenica il pilota, quando si prende non va bene, quando si fa è così, quando si prende invece siamo i numerifici. Non va bene, non va bene. L'ammario c'è sempre, quando prendi i 92, è chiaro c'è l'ammario, però devi analizzare, si riflette le stesse cose, ho già detto, devi analizzare. La partita è incomplessa, la partita è incomplessa, il pari ci sta, perché loro in più o meno sono stati più bravi di noi. Pareggio anche per le ragazze dell'Arezzo, calcio femminile che giocavano al comunale ad Arezzo contro il San Marino. È stata una partita molto difficile, su un campo che probabilmente la maggior parte di noi non conosceva, essendo un gruppo totalmente nuovo. È un ambiente ovviamente difficile, perché ci sono grandi aspettative, lo sapevamo, ma guardiamo il lato positivo, prendiamo un punto e pensiamo già alla partita successiva. Al comunale, l'Arezzo calcio femminile di Mr. Mike pareggia contro il San Marino in una partita a due volti per le ragazze a Maranto. Primo tempo sotto tono, ospiti in vantaggio al 23esimo con Barbieri. Nella ripresa le ragazze di Mr. Mike hanno un altro piglio e ciuffano il pareggio al 62esimo con Zito. Poi sul finale hanno un paio di occasioni, una clamorosa con Paganini per portare a casa i tre punti. Quando non fai allenamento in un campo e vieni a giocare in un campo con larghezza e ampiezza e non hai mai giocato in questo campo, tutte quelle ragazze, la nostra rosa di 27 che abbiamo, non sono abituate a giocare in queste dimensioni. Ci vuole un po' di tempo per conoscere il campo. Poi c'era anche il vento il primo tempo, quindi forse il vento era un po' come un uomo in più per loro, per fare pressing a noi, quindi il vento ha fatto buon pressing per loro. Però no, l'atteggiamento era giusto. Noi sappiamo molto bene che quando entriamo in queste partite con l'aspettativo di vincere vogliamo fare questo gioco con il pallone, quindi il nostro DNA questo. però nel secondo tempo le ragazze sono entrate con l'atteggiamento per entrare e vincere la partita. Quindi ho visto un Arezzo che mi piace, ho visto una squadra con il mio DNA che mi piace molto, quindi questo secondo tempo fino all'espulsione era assolutamente perfetto. Non so quante opportunità abbiamo, cinque mi pare, opportunità che abbiamo creato nel secondo tempo dentro l'area e lì vuoi un po' di fortuna per fare anche il secondo gol. Uno scivolone invece per l'Amen BC Servizi che nel finale perde contro l'Etrusca San Mignato. Sconfitta Casalinga per l'Amen BC Servizi che non riesce a superare la resistenza di San Mignato che nel finale di partita mette la freccia e supera Iamaranto. Alla terza partita in sette giorni entrambe le squadre faticano in fase realizzativa. Iamaranto riescono a tenere testa avanti grazie a due triple di Toya e Iankovic che portano il quintetto di cocce evangelisti al primo mini intervallo sul 16-12. Nel secondo quarto la trama della gara non cambia, le difese hanno decisamente il sopravvento e Arezzo inizia con un altro tiro pesante di Iankovic. Il vantaggio a Maranto non va oltre 4-5 lunghezze, così due iniziative di Menconi permettono al San Mignato di chiudere sotto per 29-26 all'intervallo. Al rientro dagli spogliatoi l'Amen BC Servizi prova più volte l'allungo, ma nel momento migliore i ragazzi di cocce evangelisti sprecano occasioni buone per dare continuità alle proprie iniziative offensive. Il terzo periodo si chiude con la SBA avanti per tre punti, poi Semprini segna due canestri consecutivi, ma San Mignato regisce e mette dentro ben cinque triple che cambiano l'inerzia della partita. Gli ospiti sono bravi a chiudere, gli ultimi tentativi di Toya e Rossi si infrangono sulla difesa di San Mignato che limita l'Amen BC Servizi a solo 54 punti realizzati e si prende la vittoria in rimonta. Sabato prossimo i ragazzi di cocce evangelisti saranno attesi dalla trasferta più lunga di questa prima fase. Alle 20.30 salirà sul parquet di Serravalle Scrivia. Fondamentalmente abbiamo sbagliato, abbiamo fatto errori da sotto clamorosi come anche nel primo e nel secondo quarto. Alla fine quando sei un po' più stanco e pensavamo quasi di averla vinta, abbiamo fatto due errori da sotto, ti fanno perdere energia, loro la prendono e ti puniscono. Loro è una squadra che gioca molto di energia, noi l'abbiamo persa, loro l'hanno presa e hanno iniziato a fare canestro, cosa che non avevano mai fatto. Il problema è che abbiamo fatto fare 62 punti a San Mignato in casa e va benissimo. Il problema è che se noi ne facciamo 54, penso non possiamo vincere con nessuno in questo campionato. Quindi se commettiamo questi errori, sbagliamo questi errori da sotto o non siamo in grado di prendere qualche fallo nei momenti chiave, diventa un problema. Questa è una partita che noi l'abbiamo persa nei primi due quarti, perché nei primi due quarti per come avevamo giocato noi e come avevamo giocato loro dovevamo essere sopra 15. Invece abbiamo chiuso, mi sembra, più tre perché abbiamo sbagliato l'impossibile. In Serie B non ti puoi permettere di sbagliare i tiri da sotto o 100 tiri aperti. Noi sbagliamo i tiri da sotto e purtroppo poi la paghi al quarantesimo quando, come ti ho detto prima, succede che tu sbagli un canestro da sotto o due canestri da sotto di fila e perdi energia, loro la prendono e poi hanno giocatori e ti fanno la differenza nei momenti chiave. Ed infine parliamo di ginnastica ritmica perché è arrivato un altro titolo interregionale di ritmica per la ginnastica Petrarca. Il merito è di Linda Fiorucci che è salita sul gradino più alto del podio della zona tecnica del campionato individuale allieve Gold che nell'abruzzese Alba Adriatica ha proposto un confronto tra le migliori ginnaste emerse dalle singole regioni. Particolarmente positiva anche la prova di Caterina Falomi 2012 che ha rotto il ghiaccio in pedana con due positivi esercizi a nastro e a corpo libero. La ginnastica Petrarca dunque potrà schierare ben due atlete nel ristretto novelo delle migliori allieve d'Italia che resteranno fino all'ultimo in corsa per il tricolore. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'ascolto e arrivederci.